dopo due mesi di assenza dai social media rosa chemical è riapparso su instagram direttamente dal letto di ospedale rivelando di aver subito un intervento alle tonsille dopo il successo a sanremo e le polemiche per il bacio con fedez il cantante aveva destato preoccupazione tra i suoi fan per le lunghe assenze ora spiegate dal problema di salute le prime parole di rosa chemical dall'ospedale sono state mi avete scritto in tantissimi per chiedermi il motivo della mia assenza prolungata ebbene ho trovato il coraggio e finalmente dopo anni di sofferenza ho deciso di sottopormi ad un intervento di tonsillectomia il cantante ha condiviso un lungo messaggio su instagram accompagnato da diverse foto e un video del suo ricovero all'ospedale san raffaele di milano nel messaggio rosa chemical ha ammesso di aver abusato degli antibiotici per poter continuare a cantare e affrontare le sue esibizioni senza cancellare i concerti questa pratica ha portato il cantante a sviluppare una resistenza ai farmaci che lo ha costretto a sottoporsi a un intervento chirurgico nonostante le difficoltà post operatorie rosa chemical si è detto felice di aver preso questa decisione e si prepara a tornare al lavoro per completare il suo nuovo album ok ok ciao